Il sabato santo è un giorno di lutto e di silenzio. Non si celebrano funzioni liturgiche. Solo nella notte i fedeli si raccolgono in chiesa per la veglia pasquale che è tutta rivolta a rivivere la risurrezione di Gesù. Quella di Cristo è la nostra avvenuta nel Santo Battesimo. Quindi celebriamo la risurrezione di Cristo e la nostra risurrezione mediante il Santo Battesimo. La risurrezione di Cristo viene vissuta in modo particolare sotto alcuni aspetti. Il fuoco, la benedizione prima di iniziare la liturgia eucaristica, c'è la benedizione del fuoco. Per la Chiesa è una immagine di Cristo risorto, il quale nella notte di Pasqua uscì dal sepolcro pieno di una vita nuova. Alla benedizione del fuoco il sacerdote prega, o Padre che per mezzo del tuo figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidano i rinnovati nello spirito e nello splendore eterno. Seguo la benedizione del cielo pasquale. Anch'essa per la Chiesa è un simbolo di Gesù risorto. Per questo, per questi sacerdote lo scalfisce mettendo la data dell'anno in cui si celebra la Santa Pasqua, le sillabe, le lettere meglio di Alfa e Omega che dicono che Cristo è principio e fine di ogni cosa. Poi si snoda la processione che dal fuori della Chiesa entra nella Chiesa, che è ancora nella penombra e si entra in un modo silenzioso e penitente. Viene portato il cielo pasquale che illumina un po' l'assemblea e si canta luce del mondo che splende sulle tenebre. In fondo alla Chiesa per mezzo, nel mezzo e vicino all'altare il diacon alza il cielo, canta con voce sempre più alta, luce, lumen Christi, la luce di Cristo che illumina il mondo. E poi il canta dell'esultet, la liturgia si sprigiona di gioia e di felicità ringraziando il Signore Gesù che si è offerto vittima per la nostra salvezza. Lasciamo che l'esultanza della Chiesa in questa notte pasquale entri a profusione nell'anima nostra. Rallegramoci del trionfo del Signore dopo tutti gli strazi della sua passione. Con cuore affranto dalla compassione lo abbiamo accompagnato sulla via dolorosa, con anima giubilante esultiamo ora, felicitiamoci con Lui nella sua gloria pasquale e anche nella nostra gloria. Siamo risorti con Cristo. La liturgia della parola, col lettore davanti al cielo, proclama con le letture tratte dal Vecchio Testamento, ma hanno sempre un fine che vi è la risurrezione di Cristo e la nostra risurrezione. Dopo le letture, fra il suono dell'orgone e delle campane, viene intonata il gloria e dopo la lettura di un prana della lettera di San Paolo ai Romani, Cristo risuscitato dai morti non muore più. Vi è il canto glorioso dell'alleria, la liturgia battesimale e in questo sacramento, in quest'atto liturgico particolare che alla risurrezione di Cristo si unisce la nostra risurrezione, cioè la cerimonia del battesimo. Viene ricordato il nostro battesimo ed eventualmente vengono amministrati nuovi battesimi. Cos'è il battesimo? È la nostra risurrezione. Schiave del peccato, dominate dal peccato di origine, Gesù muore e purifica il nostro cuore e con il rito del battesimo noi diventiamo figli di Dio e fratelli tra i fratelli. È una vera Pasqua, è una vera festa di gioia di serenità perché siamo diventati figli di Dio, cioè figli non così spuri, ma veri figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, con diritti e doveri, dovere di vivere la parola di Dio, cioè l'amore di Dio e con la gioia un giorno di partecipare alla gloria del cielo insieme a Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Amen.